Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay del Light & Chronos di Dante's Inferno Ok andiamo avanti, apriamo la porta E passiamo la piattamente Non facciamo niente Tanto come la porta si chiude quindi stiamo a posto Andiamo avanti, scendiamo e si stanno durante il video Noi li andiamo a cercare Andiamo avanti, scendiamo l'anima chi è? Fulvia Un tempo moglie di Marco Antonio fu posseduto eccetera 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 Muori Muori Questa cosa è qui dietro Mi danno tanto L'idea che tra poco Arriverremo a un boss Cioè addirittura ci fa salvare ci da La vita e la magia Vi ci ho fatto una bella Un bello combattimento E non ci scocciare Si scende sempre Oppure è un livello che dura molto Forse perché si muore parecchie volte Che sali Ah no Ah ecco Hi everybody Grazie Salutiamolo Ecco per esempio Diciamo ha sciolto il ghiaccio che c'era tra di noi Utiliziamo la magia D'accordo Non volevo arrivare a tanto Quale è cifre Quadrato Triangolo No E cerchio Triangolo E cerchio So Boh Lo comandiamo noi adesso questa Vai uccidi tutti Questo scende Prende l'ascensore E sta alzando E che fa? Ehi Se lei si deve riprendere il posto No se lei ha ripreso Bastardo Magia Cioè noi abbiamo fatto tanto per prenderci sto posto Arriva questo scemo che Io ti consiglio di andare subito là di fronte No ma quello viene a posto cioè Io non lo penso proprio Non lo puoi lasciare questo? Ah ecco Non avvicinatevi A chi spunti? Ah nessuno E allora Oh ecco lì Finalmente è uscito Dove lo buttiamo giù? Siiii siamo dei bestioni E che siamo aiutati qui? Si Premix Uh ci arrabbichiamo anche Di la Wow Spiderman Ci fa un baffo Siamo scesi Siamo scesi Nooo No no si è venita qui, non venita Non voglio nessuno Non voglio nessuno Muori Il posto è mio Ancora Ce l'hanno con me questi oggi Vabbè Vai uccidilo presto Che ci ha scocciato Oh E ce n'è un altro dietro E ma quell'altro non può salire Perché? Perché non è il cavo Via Zappatori Devi salire sulla statua O no? Sì 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 È Sì 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 cadere ecco lì che lo fa boh ah ho capito devi andare qui prima che si riformi la cosa in modo che ti fa salire e tu ti arrampichi dall'altra parte ho capito hai capito tutto? si si così posso salire anche là solo ci voleva la mia intelligenza ragazzi perchè io sono superiore in quotiente intellettivo sono più veloce io l'avanzata del titano saltiamo non va oh porca miseria sei intelligente no io sono qui non fa niente e che cazzo nooo ma porca miseria bravo distruggi la amici al prossimo gameplay eh infatti votate commentate iscrivetevi ciao 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 Grazie a tutti